un saluto a tutti gli amici di planet spin oggi faremo una sessione di pesca dalla spiaggia a spigole speriamo a serra con il nostro amico edo che ci segue purtroppo le condizioni di mare non sono quelle ottimali per la spigola ma comunque ormai siamo qua ci proviamo abito un po lontano dal mare quindi non posso sapere con esattezza le previsioni e vediamo cosa esce oggi ho portato sia qualche minov che qualche eschetta siliconica per la pescata di oggi siliconi leggeri un po di più pesante poche poche esche una battuta sperimentale oggi anche un giga vediamo cosa esce fuori si tratta di una scaduta molto avanzata quindi però magari prima dalla superficie fino al fondo proprio con un vtd radente radente a questa scogliera alterno qualche lancio lento a qualche lancio un po più veloce magari schiodiamo qualche serrotto qualche spigola in caccia proviamo a fare una pesca di reazione anche se per il momento attività galla non ne vedo pochi lanci possono abbassare se c'è il pesce attacca attacca subito guardiamo proprio negli scogli radente 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 un po più veloce vediamo se scogliamo qualche oltre scoglie porto anche qualche altro gerco un po più pesante però per le condizioni di mare la tipologia di spot vado per questo per questo d'arte è un po questo d'arte vediamo come va se ho qualche risultato e ci incambiniamo lungo la spiaggia qua facciamo due lanci di tanto in tanto ci fermiamo con il tartarino questo svolge una profondità di nuoto nei primi 70 cm di profondità quindi a contatto con la superficie 50 70 cm per questo spot è un'altezza ottimale se c'è qualche predatore sicuramente la noterà c'è una piccola secca infatti si vede che l'onda rifrange facciamo un cambio di artificiale un'esca siliconica swing impact con una piscina piombata facciamo scendere sul fondale poi iniziamo il recupero molto lento gradente al fondo il fondo è sporco qualche pietra fango vedo un po di attività a galla qui vi provo con un minno più piccolino faccio un veloce cambio di artificiale non vorrei ci fosse qualche regginella si è formata una bella schiumata qualche onda si è infranta io provo con questo artificialino qui siliconico visto un po di attività a galla magari c'è qualche piccola spigola ci proviamo grazie a tutti facciamo scendere sul fondo, prima ho fatto un laggio in superficie, prima è stata d'acqua, la faccio scendere un po' più in fondo, però recupero lento sul fondale. Ogni tanto arriva qualche ondina, questo qua è il mare ideale, purtroppo siamo arrivati ad una scaduta troppo avanzata, ma comunque ci proviamo, ormai siamo pronti. Queste sono le schiumate dove in questo spot escono le spigole, quando il mare è così. Dai che c'è! Questa battuta di pesca spinning in spiaggia l'ho impostata con una canna da 7 piedi, una CL2, 5 sedicesimi, una 3 quarti, 12-20 libre, con uno Stratik 5000, in bobbina invece ho un trecciato da 20 libre, un finale da 0,30 più o meno. Una pesca di media potenza, indirizzata a predatori di media mole, come le spigole intorno ai 2-3 kg. Quindi eventualmente una cattura di pesci di pesca mole riusciremo a fronteggiarli in modo egregio. Gli artificiali che utilizzeremo in questa battuta sono i classici taster, qualche minno o qualche esca siliconica, in modo da coprire tutto il range di profondità dalla superficie fino al fondo, visto che si tratta di una spiaggia a lento declino che nella zona in cui riusciremo ad arrivare gli artificiali sarà massimo un metro e mezzo, due metri di profondità. Ora proprio con un'imitazione di foraggio, un siliconico, black minno. Vediamo se riesce a portarci a casa qualcosa. Eh, tocca sul fondale, tessina troppo pesante. Si aggiungiamo al nostro amico Edo. vediamo se ha qualche notizia anche se non sento urla per cui facilmente posso intuire che non ha fatto nessuna cattura hai ferrato? un classico guarda che tramonto che ti sto facendo vedere guarda solo per questo qui avanti c'è una secca proviamo ancora un po' con questo tartarino della raptur questo è uno spot dove ho visto prendere parecchi pesci, li ho sempre visti prendere e qualche volta li ho fatti anche io facciamo ancora qualche lancio c'è un po' di attività qui ho visto qualche precetto saltare roba piccolina però molto piccola però segno di attività è sempre positivo facciamo qualche recupero un po' più lento sbacchettato e con qualche stop una sequenza GERK GERK STUP GERK GERK STUP GERK GERK STUP l'attività è proprio qui nel sottocosta quindi recuperiamo fino all'ultimo centimetro utile perché l'attacco della spigola può arrivare in qualsiasi momento dello shoreline della daiva in saltica 170 me lo gioco perché la battuta sta quasi per terminare sono le ultime fasi è quasi il tramonto Per cui se deve uscire il pesce esce adesso o mai più vediamo cosa succederà questo è un mino long jack mino 170 mm si lancia molto bene e lavora come range di azione in profondità tra la superficie 50 70 centimetri di profondità per questo spot diciamo un jolly in parecchie occasioni si è rivelato l'esca giusta sia sul serra che sulla spicola per cui ve lo gioco adesso perché se l'avessi messo all'inizio della pescata penso avrei continuato per tutta la pescata solo con questa esca quindi lo gioco sempre alla fine altrimenti come diciamo qui a napoli non c'è sfizio cioè non c'è divertimento usare sempre la stessa esca vediamo che succede facciamo ancora qualche lancio questa esca la possiamo recuperare sia veloce che lenta la possiamo cercare la possiamo recuperare lineare diciamo che è un'esca molto polivalente ed è molto gradita ai pelagici la pesca con la pesca d'arriva è un jolly almeno per il mio punto di vista l'acqua è talmente bassa che tocca sul fondo qualche ultimo lancetto con con il jig vediamo se esce qualcosina le tentiamo tutte anche se esce qualcosina le tentiamo vediamo le ische dietro alcune le ische dietro un misto bello si muove bene qualche lancetto con questo inov siliconico con codina non si sa mai è il far della notte allora che dire ci abbiamo provato è stata una prima prova in pesca dopo un periodo di fermo almeno da parte mia che ho dedicato tante uscite al kayak e quindi ritornare qui in spiaggia cercaremmo la spigola oppure i pesci di predatori del sottocorso come in terra è sempre bello, emozionante e divertente per il momento è tutto come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin quindi seguite il canale per essere aggiornati sui prossimi inserimenti ciao